Io sono Giorgio Galante, responsabile della UIDOM SRL, start-up nata in Sardegna col contributo importante di Sardegna Ricerche e continuiamo a presentare l'evoluzione della nostra casa domotica. Per cui quest'anno aggiungiamo ai prodotti che abbiamo già presentato gli scorsi anni due nuovi moduli che consentono di avere una gestione attiva del risparmio energetico, che in altre parole vuol dire che sono dei moduli che possono essere trattati nell'impianto esistente e ti consentono da un lato di poter controllare i consumi in modo oculato, dunque non solo di misurarli, ma di poterli controllare. E dall'altro anche di poter controllare la produzione dell'energia per chi è dotato di fotovoltaico, nel senso di poter attaccare i carichi importanti quando si ha effettiva produzione e non lasciare al caso l'accensione dello scaldabagno, ad esempio, o di carichi più importanti quando magari si ha la possibilità di farlo piuttosto che quando si sta producendo.